Un ritorno al passato per Andrea Tricarico, credo che sia stata una volontà di entrambe le parti per ricomporre questo binomio. Sia da parte mia sia da parte della società c'era la volontà di rincontrarsi, torno a Pagani con grande piacere, speriamo di fare un buon campionato. Andrea, un'annata di rilancio per tutte le componenti, per te, per la Paganese, c'è grande voglia di fare qualcosa di positivo. Sì, mi preme di sottolineare questo, infatti ho una grande voglia di riscatto dopo la mia brutta personale stagione, non vedo l'ora di cominciare, speriamo bene. Si ritrovano vecchi amici e comunque compagni della Salernitana, sembra tutto andare per la strada giusta per creare un gruppo che possa dare delle soddisfazioni. Sì, conosco sia la maggior parte dei ragazzi sia il mister, ci sono tutte le condizioni e le premesse per fare un buon campionato. Grassadonia vuol dire? Tanta roba. E lavoro? Serietà, umiltà e professionalità.